ben tornati all'ennesima puntata delle fritte prima puntata post vacanziera marco ciao 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 a tutti post vacanziera e di nuovo con wifi quindi riusciamo a fare i video forse incrociando le dita e allora questa puntata parleremo di corona virus perché l'argomento del momento e soprattutto e che si chiama immunità di gregge la puntata e capirete e capirete anche perché allora marco partiamo come sempre dai dati perché partire dai dati è sempre il buon viatico per non prendere delle grandissime cantonate quindi dacci un po i numeri sulla situazione globale sì nel mondo o dunque questi sono dati che ho recuperato ieri quindi sono abbastanza aggiornati e sono 22 milioni di casi e una cifra considerevole e oltre 780 mila morti questo per coloro che dicono che il corona virus è una falsità è un trucco per levarci la democrazia per metterci le mascherine per forza oppure per quelli che dicono che tutto finito in realtà non è tutto finito siamo o non nella seconda ondata ma siamo semplicemente in una continuità della della prima ondata con situazioni differenti tra l'europa dove c'è una ripresa abbastanza contenuta che in qualche maniera normale dopo la situazione di blocco e confinamento il fatto di aver ripreso le attività necessariamente ha comportato un aumento l'europa incide per 3,8 milioni sui 22 milioni di totali e con oltre 200 mila morti in europa i contagi più alti sono in russia poi quasi un milione e molto pochi morti denunciati questi sono sono i dati e poi la tendibilità dei dati è un'altra questione poi c'è il uk la gran bretagna con oltre 300 mila la spagna pure con oltre 300 mila poi l'italia che ha 200 fino adesso oltre 250 mila casi però con il numero di morti maggiore in europa poi i focolai enormi perché anche le politiche e che sono state prese di contenimento sono completamente differenti quando o non esistenti sono i dati dell'america degli stati uniti con 5 quasi 5 milioni e mezzo di contagi e 170 mila morti l'altra è stata appunto il brasile il brasile di bolsonaro del negazionista bolsonaro con è quasi 3 milioni e mezzo di casi e oltre 100 mila morti un'altra situazione grave quella nell'india con 2 milioni e 8 o di casi e nel sud america ci sono una serie di paesi come il messico e la colombia con oltre mezzo milione di casi i consolidati quindi e il coronavirus esiste non è un'invenzione e non è un flaggello di dio ma come abbiamo detto altre volte è un flaggello dell'uomo anche nel senso che siamo andati a toccare delle situazioni degli ambienti che prima non toccavamo occorre fare attenzione soprattutto in europa dove le iniziative drastiche di blocco e confinamento hanno fatto di scendere la curva ora occorre fare attenzione non noi come dire ci collochiamo a metà tra quelli che dicono è tutto finito o ormai il virus gira senza carica di contagio o non fa niente e quelli che stanno già nel dramma dicendo bisogna chiudere tutto di nuovo no bisogna chiudere tutto di nuovo anche perché non è non sarebbe sostenibile non solo economicamente e che ci può importare un po' di meno ma socialmente e umanamente non vediamo anche la difficoltà con cui l'invito alla semplice mascherina le resistenze che questo trova e incontra dappertutto dal peggio alla spagna all'italia alle manifestazioni di di qualche gente qualche genio con le mascherine sul modello di trump però appunto è l'unica cosa da fare in questo momento e può incrociare le dita rispetto alla ripresa scolastica che è fondamentale esatto marco c'era un aspetto che volevo sottolineare perché come al solito la stampa internazionale non fa un grande una grandissima figura ancora quando si parla di coronavirus insomma avendo visto parecchi parecchi telegiornali italiani anche all'estero eccetera ogni giorno c'è il bollettino di guerra il numero dei dei casi aumenta diminuisce insomma non si capisce granché semplicemente perché la stampa continua a non voler dare il giusto messaggio che è un messaggio comunque complesso perché il numero di casi dipende da quanti tamponi fai e dalle comunicazioni e quindi il lunedì i solito i casi diminuiscono perché nella domenica i tamponi sono di meno c'è anche la questione che pare che il numero del numero l'età media delle persone infette si stia abbassando chiaramente ricordiamo tutti che all'inizio di questa situazione moltissimi dei tamponi sono stati fatti all'interno delle case di riposo oggi si fanno soprattutto su quelli che viaggiano e vanno in vacanza che insomma sembra essere un tantinello più giovane quindi come al solito la stampa cerca soltanto la notizia e cerca soltanto lo scoop e non spiegano come dire non svolge quella sua funzione pedagogica che che dovrebbe essere diciamo naturale per la per la stampa su questa cosa che hai detto leggevo proprio oggi rispetto all'italia no questi ultimi quattro giorni sono aumentati il numero dei contagi e però stavo vedendo i dati sono aumentati i tamponi fatti e percentualmente i contagi rispetto ai tamponi sono meno quindi fortunatamente sembrerebbe che questo una delle cose che si era detto no fondamentali tracciare le le tre tino la t di tracciare sembrerebbe tenere in questo momento che si stiano facendo abbastanza test e questo permette di rintracciare dei casi i positivi marco raccontaci però pare che negli stati uniti questa storia della mascherina abbia preso un come dire un una via molto politica raccontaci un po che sta succedendo lì sì logicamente la gestione la cattiva gestione del coronavirus da parte di trump e sarà uno dei temi è uno dei temi sulla tavolo o per le prossime elezioni presidenziali che si svolgeranno il 3 novembre quindi tra dopo domani praticamente e dicevamo la cattiva gestione no perché trump ha minimizzato per moltissimo tempo dicendo che non occorrevano chiusure blocchi e altre cose ricordo a un certo punto aveva anche detto o ce la caveremo con centomila morti sarà inevitabile i morti sono 170 mila fino adesso i casi come dicevamo all'inizio sono quasi 5 milioni e mezzo e in più il non intervento anche se poi il carattere federale degli stati uniti ha comportato che in alcune parti ci sono stati dei veri e propri blocchi e new york è uno degli esempi più più lampanti e nonostante questo la crisi economica provocata dal covid è enorme per cui tutto il modello di trump della ripresa dell'economia e dell'occupazione per il ceto medio americano è crollato completamente allora a questo punto c'è questo gioco in cui trump continua il suo approccio tra il negazionismo e il minimizzare e quindi il rifiuto della mascherina anche in contrasto con i suoi tecnici noi il famoso fauci in questo nanetto americano che appare in questo scienziato e e quindi con questo spirito si sa che in america è forte anche questo chiamiamolo semplificando anarchismo di destra la libertà individuale e sovrana no è il principio per cui non si può vietare per esempio la vendita delle armi e mio diritto di comprarle se le voglio comprare tenerle dentro casa usarle e così il la mascherina diventa un un modello dell'intervento dello stato lo stato mi obbliga a fare cose che vanno contro la mia libertà individuale e quindi si è fortemente politicizzata a questa situazione che in europa abbiamo visto ugualmente ma sono cascami sono le sciocche in italia le sciocchezze di sgarbi e dal vini che fra l'altro ne manco un giorno dice una cosa il giorno dopo dice l'opposto lì invece è netto questo contrasto e quindi la questione mascherina sta diventando o una delle cose su cui si decideranno le elezioni presidenziali allora marco avviamoci alla conclusione diciamo se possiamo riassumere diciamo che noi suggeriamo a tutti sempre le solite precauzioni che sono delle precauzioni poi di buon senso e speriamo che la situazione appena comincia la scuola anche nel sud europa perché in germania è già cominciata negli stati uniti in alcuni stati è già cominciata bisognerà fare il punto a scuole aperte per capire se si riuscirà a contenere questa famigerata seconda ondata che tutti stanno aspettando oppure riusciremo a tenere tutto sotto controllo nell'attesa che un vaccino ovunque si fa si faccia venga distribuito e venga reso disponibile evitando così anche quella questione che il vaccino ci sarà chi se lo dovrà pagare e chi invece ne resterà resterà senza perché ovviamente gli investimenti in sanità sono ancora non si vedono ecco tutti quelli che hanno stati promessi non si sono ancora visti quindi grazie per essere stati con noi anche questa volta diffondete questo video e ci vediamo la prossima settimana ciao ciao